Il martedì cominciamo la riunione con l'ordine del giorno diverso dal solito stasera parliamo del mostro il mostro il mostro è uno di noi magari uno che sta qua dentro in mezzo all'antri che fa finta di niente mentre sua coscienza c'ha la morte in qualità d'amministratore del condominio propongo questo cercamo il mostro lo trovamo e poi l'ammazzamo con le mano nostra scusate ma questa è una follia una follia pura una follia chiedela a Giuliana se è follia oppure a signora Marisa che è stata ammazzata all'altra legazzina senza pietà noi non possiamo sostituirci alla giustizia ah professore giustizia si ma niente polizia sta vergogna la dobbiamo cancellando gli altri e c'ha ragione il mostro è un verme e i vermi si schiacciano sono le madri che devono farsi giustizia l'avete letto i giornali ennesimo delitto del mostro nel già tristemente famoso condominio eccetera eccetera ci mancava solo star tra infamità ci mancava a mio figlio gli hanno detto a scuola che fanno bene ammazzare le cazzine di qua perché sono tutti bastardi e ladri ci pensiamo noi ammazzasti infame ma come si fa ad ammazzare una persona così ci penso io grazie a tutti